buongiorno a tutti e benvenuti a questa video analisi settimanale partiamo da un grafico settimanale partiamo proprio da nvidia guardate che bel grafico che movimento ampio su scala settimanale a conferma dell'ottima trimestrale degli ottimi earnings che nvidia ha dato ridando boost a un intero listino continuerei a guardare i grafici su scala settimanale perché merita in questo momento il mercato in una fase un po contrastata di essere osservato da questa prospettiva il nasdaq va a rompere la resistenza effettua nuovi massimi su scala settimanale la più alta chiusura di sempre non così però gli altri listini la semplice 500 è già un po più titubante lo vedete perché questo succede perché le minute della fed hanno portato vendite su alcuni settori mentre altri sono andati bene il tecnologico è andato bene per esempio le utilities come vedremo dopo sono andate proprio maluccio nell'ultima settimana e l'effetto si vede tanto più quanto più si passa a vedere e a guardare altri indici guardate per esempio l'industria come è stata venduta questo è il dow jones oppure questo è il nice composite sempre su scala settimanale si può vedere proprio come qui siamo arrivati su un livello di resistenza e il mercato ha percepito la possibilità di tornare indietro è un partito razionario perché è fondamentale diciamo monitorare questo e una certa debolezza lo vedete qui tutto diverso da quello che si vede sul nasdaq si vede anche in europa passando dal dax all'euro stock 600 fino ad arrivare all'euro stock 50 e al nostro fuzzimib che ha sofferto di più anche per via dello stacco dei dividendi ma anche le borse asiatiche guardate l'anseng e diciamo il csi di shanghai cioè gli indici della borsa cinese che non sono andati proprio bene mentre tutto sommato sempre su scala settimanale è rimasto sui suoi passi il nikkei interessante su scala settimanale vedere il rapporto tra il nasdaq e il russell questo rapporto è molto interessante perché ci mostra come siamo proprio lì e di solito quando avviene un breakout su scala settimanale poi il mercato si muove molto a favore del nasdaq di recente stiamo a vedere perché qui siamo in prossimità non è ancora avvenuto dobbiamo monitorare che però il mercato sia tutto sommato tranquillo a prescindere da questi movimenti tra vari settori lo si vede dal vix perché il vix comunque chiude la settimana sotto 12 e anche in questo caso si tratta di una chiusura molto bassa che riporta i valori del vix sui livelli pre covid di nuovo prima del diciamo dell'avvento appunto della pandemia allora passiamo di nuovo alla scala giornaliera e andiamo ad osservare invece diciamo così i nostri soliti grafici ecco questo è il cambio euro dollaro che come si vede resta piuttosto stabile è stata una settimana tutta improntata un po al recupero del dollaro poi venerdì l'euro ha riportato tutto verso la pari se torniamo indietro di una settimana troviamo più o meno gli stessi valori stessa dinamica è successa sul dollar index e siamo sempre lì intorno a questi livelli a cui ci si muove movimenti invece ci sono stati e interessanti sulle commodities questo il petrolio che ha tentato anche l'affondo sotto diciamo così il trading range che si va ben delineando oramai diciamo così in questo ultimo mese attenzione perché sotto quel livello ci sono situazioni e contesti importanti e supporti che vanno stagliandosi sempre più verso il basso però il mercato potrebbe anche tornare a muoversi in questo 3 di raggi che vede in 80 la parte alta chi questa settimana ha ritracciato con più decisione sono state altre commodities come il loro che sembra orientato a tornare chissà a testare quell'area dei 2000 diciamo 2 80 che fungono da supporto da questo punto di vista già testato un paio in un paio di occasioni il movimento della settimana è stato piuttosto di ritracciamento qualcosa di simile successa anche al rame lo si vede molto bene qui tornato prepotentemente sotto i 5 e anche sotto diciamo l'area di pullback e un movimento simile si vede anche sull'argento che però ha un bellissimo grafico da questa prospettiva e sembra più proprio in questo caso un pullback su una livello di resistenza che è più o meno inquadrare qua che recentemente solo recentemente era stato violato a rialzo pullback anche sul gas naturale che con l'ultimo contratto aveva visto solo rialzi sino alle ultime sessioni e quindi movimenti più ribassisti andiamo a dare un'occhiata ai rendimenti che come vedete si stanno di nuovo a se stanno intorno al 450 questa settimana abbiamo avuto un po una risalita di nuovo qui c'è un'azione delle minute della fed no che sembrano procrastinare da quello che si vede dai verbali dell'ultimo meeting del funk sembra che si procrastini sempre più in là il momento del rialzo dei tassi e allora come abbiamo detto prima penalizzate le utilities ma poi lo vedremo ma anche diciamo così il ritorno in su dei rendimenti quindi vendite sui btp soprattutto su quelli con scadenza lunga questa tendenza si riflette anche in europa lo vediamo sul bund e anche sul nostro btp tornato a bussare sulla soglia dei 3 90 ovviamente c'è un riflesso anche sui treasury long term perché le scadenze vendute in questo caso sono state quelle più lunghe e quindi questo che rappresenta i bonds oltre 20 anni long term per per l'appunto diciamo così ecco che il movimento lo si vede sembra aver respinto l'area 92 30 ogni velleità di recupero per ora per quanto ci riguarda andiamo a vedere ancora che cosa succede sul mercato italiano anche osservando il fib qui non c'è l'effetto dello stacco il dividendo allora vediamo una settimana all'insegna del ribasso toccato anche un minimo praticamente a 34.100 poco sopra nella sessione di venerdì poi però recupero quindi vedremo come il mercato vorrà comportarsi lunedì il grafico abbastanza interessante così come è interessante verificare che su milano tutto sommato ci siano dei titoli magari non proprio di prima fascia ma che mantengono un certo appeal mentre lo hanno un po' perduto alcuni titoli bancari lo vediamo qui o altri titoli che dopo lo stacco sono stati un po' venduti come a 2a amplifon anche non proprio informissima nemmeno azimut giusto per dire dei primi ma la stessa campari che aveva tentato un recupero ora torna un po indietro stessa cosa succede anche ad ene lo vediamo qui arrivato al test di un'importante resistenza dicevo alcuni titoli che invece secondo me restano interessanti graficamente il primo è di assorin come si potrà vedere a breve protagonista diciamo così di un bel breakout contest dell'area 102 6 insomma diciamo che potrebbe anche fare un tentativo dopo questo pullback di riportarsi sopra quell'area sarebbe interessante no monitorare il titolo alle prese con due livelli di resistenza magari sopra però vediamo cosa succede se dovesse leggere questo supporto importante altri titoli interessanti eni sta muovendosi all'indietro un po come tutto il mercato ma potrebbe arrivare a testare quell'area dei 14 10 14 euro che tutto sommato potrebbe raccontare chissà qualcosa di interessante più bello di eni perché resta lassù nonostante dopo la trimestrale magari i prezzi fossero un po' scesi ma rimane là in alto ferrari race e quindi ferrari rimane uno dei titoli più interessanti esattamente come fineco che è un po in pullback ma mantiene tutto l'appeal legato al testa spalle al bel testa spalle diciamo così rialzista che graficamente si vede con una spalla la testa la seconda spalla e poi diciamo così la rottura conclamata di più livelli successivi e quindi un bel grafico interessante interessante secondo me è anche italgas eccolo qua perché beh perché si è portato su un primo supporto una prima area di supporto su cui ha reagito poco sotto c'è intorno ai 4 70 un altro livello di supporto interessante la reazione di venerdì è stata significativa stiamo a vedere altro grafico che tutto sommato non è male così come sempre sulla borsa italiana non è male pirelli guardate che bel trend pirelli e come si come dire mantiene nei pressi dei massimi ci sono altri titoli molto buoni in grande trend questo è anche difficile poi da riuscire ad andare acquistare perché ci vuole coraggio non andare a buttarsi su una forza relativa su un momento un così significativo quindi assolutamente interessante ricordiamo che questa è stata anche la settimana che ha visto tornare l'interesse un po anche su leonardo tornato là in cima altri due titoli da tenere sotto monitoraggio sono unicredit secondo me il bancario che ha il grafico con più a pillo vediamo comunque appiccicato la sui massimi e unipol sicuramente meglio di generali che non ha reagito benissimo diciamo così lo vediamo qua alla settimana dello stacco mentre unipol graficamente direi continua a macinare nuovi massimi relativi quindi molto significativo un'ultima occhiata stellantis non che ci sia qualcosa da fare attualmente però diciamo che ha incontrato la prima resistenza sul recupero in area 21 50 da lì sta tornando indietro sempre da monitorare l'area 19 20 questo per quanto riguarda i titoli i titoli europei e titoli italiani scusate ora darei un'occhiata anche alcuni titoli americani abbiamo già visto nvidia che ha un grafico bellissimo queste microsoft anche lei interessante siamo sui massimi e quindi il titolo potrebbe fare l'ennesimo breakout e andare a comportarsi molto bene chissà ecco e lì lì invece che dopo una importante lateralizzazione con l'ultima settimana è andata nuovamente a rompere a rialzo e quindi anche qui ci potrebbe essere un bel movimento grafico altri due titoli del settore tecnologico che si muovono molto bene sono broadcom lo vedremo a breve alle prese anch'essa con la forte resistenza in quest'area intorno ai 1435 1440 insomma qui sarà importante vedere come si comporterà il titolo e un altro di quei semiconduttori che si stanno comportando molto bene è qualcom lo vedete qui grafico che parla da solo dislancio dopo il breakout continua la fase rialzista importante diciamo così e eh volendo vedere anche un titolo un po' fuori dai big un po' eh diciamo così eh di seconda fascia ma con un grafico interessante sequenza sistematica di nuovi massimi relativi per eh transdigim e eh direi che eh mi sembra che il grafico racconti di un movimento interessante sul mercato americano però voglio farvi fare anche questa osservazione e cioè vorrei farvi vedere come proprio nelle ultime nell'ultimi giorni della settimana molti di quei titoli che avevano corso tanto hanno subito delle prese di beneficio no lo si vede graficamente questo perché beh perché diciamo così essendo diciamo dalle minute della fed emersa la possibilità che eh il taglio dei tassi sia posposto nel tempo verso le utilities proprio in previsione del taglio tassi perché ne potrebbero beneficiare c'era stata una forte rotazione settoriale e negli ultimi giorni sono arrivati su molti titoli del comparto un po' di vendite quindi sempre interessante tenere il tutto monitorato per questa settimana è tutto alla prossima ciao